Bobo Summer Cup 2017, sempre in collegamento da Cervia con Radio Bruno. Oggi tantissimi ospiti e tanti personaggi e in particolare ne abbiamo uno, un personaggio femminile bellissimo, tra l'altro Miss Italia 2013, Giulia Arena. Ciao, tutto bene? Ciao, tutto bene. Ciao a tutti. Sì, sì, a parte qua il sole, il caldo, però ci godiamo questo bel evento. Dai, qualcosa di diverso soprattutto. Beh, poi tu mi dicevi che sono siciliana, quindi sono abituata al sole, al caldo, per cui... E oltre a questo, ovviamente, in questo caso abituata anche al calcio, al foot volley, oggi protagonista qui a Cervia. È vero, devo dire che per me, soprattutto il foot volley, è un'esperienza assolutamente nuova, perché non era una cosa che avevo provato, non è una cosa che sono abituata a vedere, quindi quando me l'hanno proposto la prima volta, per me è stato un po' l'entusiasmo dei bambini. Ed effettivamente è così in questi giorni, quindi non escludo che poi magari troverete qualche palleggio nei prossimi giorni, non lo so, e vediamo, forse potrei anche lanciarmi. Dai, prima abbiamo visto anche altre ragazze che sono cimentate, non è facile, tra l'altro, è a livello fisico veramente importante, però dai, vediamo che sei attivissima, per cui ti aspettiamo ovviamente anche sul campo. Senti, i prossimi programmi, Miss Italia l'hai già vinta, quindi... Su quella ci siamo. Beh, io continuerò a condurre il programma che attualmente sta andando in onda sul Rai 4, si chiama Kudos, abbiamo fatto la nostra prima stagione, è proprio terminata adesso, a fine giugno, e finalmente abbiamo avuto notizia di ricominciare a settembre, quindi mi godo l'estate, mi godo la Bobo Summer Cup, e poi ricominciamo ad andare in diretta in Rai. Ottime notizie, noi vi salutiamo, appuntamento in campo, grazie a te, e proseguiamo con la Bobo Summer Cup 2017 con Radio Bruno da Cervia. Ciao! Ciao!